Allora, normalmente in uso non sono le equazioni di Pemmo-Montif o di Schumann-Schiorg che io vi ho presentato, ma ci sono delle semplificazioni. Per quanto la nostra esperienza sia che quando usiamo le equazioni Pemmo-Montif si ottengono risultati migliori. Però le equazioni sono queste, possono considerarsi complicate perché dobbiamo valutare il delta, dobbiamo misurare le radiazioni, dobbiamo misurare il deficit evaporativo, dobbiamo valutare se B e A sono 1 uguale a 2, dobbiamo valutare le velocità orizzontali del vento. Può diventare complicato in alcune situazioni. Allora, come sono semplificate queste equazioni? Intanto andiamo a vedere qual è la struttura dell'equazione di Pemmo-Montif. C'è una parte, la parte a sinistra intanto va ricordato che c'è il calore latente di vaporizzazione da ricordare. Nella parte destra c'è una parte che dipende dalla dipendenza, dal termine di energia, e una parte che dipende dalla domanda evaporativa. Dove la dipendenza, l'energia disponibile è il bilancio netto di energia, più o meno vari eventuali sink di energia che possono essere presenti. La forma tradizionale dell'equazione di Pemmo-Montif è leggermente differente da questa che vi ho scritto io, perché per esempio non ha i coefficienti A e B, dei quali bisognerebbe tener conto, ma è semplificata in questo modo. E' scritta nel termine delle resistenze, come vedete Rg ed Ra, dove Rg di volta in volta sono le resistenze del suolo che offre il suolo, la resistenza che offrono le piante. Cioè anche per i suoli si può tentare di andare a calcolare delle resistenze che vanno a correggere la resistenza aerodinamica. Per tenere conto del fatto che durante la stage 2 evaporation, l'evaporazione nella fase 2, viene diminuita dal fatto che manca in qualche modo acqua. Il termine G, i sink, in questo caso nel bilancio di energia, è R con N considerata la radiazione netta complessiva che in qualche modo si pensa di misurare esternamente, e G è un sink ulteriore di energia che sarebbe la quantità di calore che viene utilizzata per... che va verso il centro della Terra. Di solito questo termine G poi viene ulteriormente semplificato nell'assumerlo proporzionale ad Rn, per esempio, oppure nell'assumerlo nullo. E questa per esempio è una prima forma dell'equazione di Pema-Montiz. L'equazione però è stata ulteriormente semplificata per il suo uso in agricoltura usando la radiazione media giornaliera, che in questo caso R con N, in questo caso diventa la radiazione media giornaliera, e usando dei coefficienti che sono stati calibrati, questi V con F, che hanno a che fare con la misura del vento, ed è in particolare pari a 0,27, 1 più la velocità del vento misurata da 2 metri diviso 100. Questa è una formula semplificata, che trae origini anche con il coefficiente C davanti, e esistono delle tabelle che danno questi coefficienti anche in funzione delle colture che si vogliono analizzare. I coefficienti in questo caso sono tabulati ed usati in riferimento all'esperienza, in riferimento a grandi campagne di misure che sono state fatte negli ultimi 50 anni su colture di vario tipo, in vari ambienti, e così via. Quindi, per esempio, si può usare questa formula, e questa formula, se usata propriamente, dà dei risultati ragguardevoli, direi, nella precisione. Un'altra semplificazione che si è andata affermando, scusate, è l'approssimazione che è chiamata di Prisley-Taylor. In questo caso, B uguale a 1 e A uguale a 1. La parte di domanda evaporativa, che è quella che vedete scritta nella formula in alto, è assunta semplicemente proporzionale alla parte radiativa, secondo un coefficiente alfa, che è il parametro di Prisley-Taylor. E questo semplifica la formula nel modo seguente, cioè semplicemente c'è un coefficiente alfa che va a moltiplicare il termine C e delta diviso C gamma più C e delta di nuovo, questo fattore, questo fattore che comunque ha a che fare con le resistenze, per la domanda radiativa. alfa diventa un vero e proprio diventa un vero e proprio coefficiente di taratura, di solito CE è preso uguale a C e quindi si semplifica in questa espressione e rimane quindi alfa diviso delta fratto gamma più delta, che è un termine che è completamente noto. Nel software che voi andrete ad usare queste formule sono pienamente implementate e poi ne discuteremo anche con più dettaglio i parametri in seguito. Ci sono delle domande su questi aspetti? Se non ci sono domande, io passo un po' all'ultima serie di slide.